musica 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 ma ho superato una rotincia eh? da che parte devo andare adesso? oh oh ok è andata bene si Compie un reato binomio. In questo momento di crisi spirituale, i sacerdoti hanno iniziato il banchetto dei bricchi dipinti per scegliere il nuovo alto sacerdote. Hai avuto qualche meritavi, Campbell. C'è da questa parte, vero? È avanzato un amuleto d'ossarmi? Non è possibile che peggiori. Credo proprio di sì. Tre quarti è più breve. Sì. Due, tre. Ottimo. Che fortuna è proprio qua. Sì. Bene. Cos'è che fa questo? Versaglio nervoso. No, non mi interessa. Cazzo, sono troppo. Sono troppi, sono troppi. Vedete me schiacce. Vi faccio a pezzi. Sembravano di meno prima. Ci sono altre Pantegano in giro? No, è andata bene. Il fatto di Pantegano ha raggiunto la città. No, non ci stiamo in giro. Non so, non le fanno. Non mi sono troppo. Non ho bisogno. and sea divers. We can chew through pipes, survive, and a clear blast. Scale walls and fall and not get hurt at all. We've done it in the past. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. I was going to go through the roof. And from that side there is the market. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, wait a minute. Una finestra è aperta. Potrei farcela. Proviamo. Dov'è Morgan? L'ho perso di nuovo. Stasera Morgan è nella sauna, al piano di sotto. Sono soltanto chiacchiere delle ragazze. La pressione nei tubi aumenta. Beh, non succede quasi mai nulla. Sono sicura che non ne parleranno più. Comunque, stasera Morgan ha insistito per la sauna. È così schifo. Dov'è nascondermi? Sono di personale, ragazza. E paga per cose davvero strane. E altta, es. Qua c'è la signora di prima. Deve essere la madame. Andrò a prendere lei adesso. Vieni qua. Dai villaggi agricoli arrivano le figlie bastardi e le pucche che non riescono a sfavare. Credono di andare a lavorare in fabbrica. Quando arrivano qui, ormai è troppo tardi. La peste ha devastato questo posto. Ci sono stanze ancora da pulire. Funziona. Bene, adesso ho libero accesso a tutte le porte di questo portello. Non ci capisco niente. Un piano di sopra. Va bene. Anzi, no. Devo rasconderla. Qua andrà bene. L'amoleto. Vieni da babà. Colpo di fortuna, uno. Molto raramente una pozione del brisprino era tutto il tuo mana. Perché no? Oh, questo mi piace. Erhalz Dice. Erhalz Dice. Ora. Adam, lascio questo militare nella vostra camera, va bene? Chi taccia consente? Erhalz Dice. Vieni qui. Ah. Erhalz Dice. Ho rivisto la ragazza carina. Quella che ti dicevo. Sai che ti trovi a Golder Cane, vero? Sì, ma lei è diversa. Le piacciono a bene. Beh. Che idiota. Lei vuole solo i tuoi soldi, non te. È tutta invidia. Daci. Meno male che non ero lì. Erhalz Dice. Eh, ora che faccio? Sì. Sì. Erhalz Dice. Ci sono i Pendleton. Dovresti essere in servizio. Forza, dovresti essere di guardia. Ti farai di sicuro congedare. Incredibile. Avevi detto di non essere un brinco. Svegliati. Erhalz Dice. Guarda. Finalmente. Sto così da venti minuti. Ma che passi pesanti che hai. Un po' ingrassata dolcezza. Come la volta scorsa, chiaro? Vai piano e dammi la scossa solo quando te lo dico io. Intesi? La parola di sicurezza di stasera sarà... Diciamo castigo. Ferma se la senti. Una scossa di troppo e ti faccio perdere il lavoro. D'accordo. Va bene. Oh, che bello. Me lo meritavo. Vuoi sapere perché? I Pendleton sono qui, vero? Inizierò da loro. Li ho derubati. Una montagna di denaro. Questo qua sarebbe il fetticcio del mercante. Pazzesco. È proprio il perverso. Continuiamo allora. Sei spietato. Non fermarti, ti dirò tutto. Sì, fallo. Sì, fallo. Crede a Pendleton che la loro eredità era tutta robaccia. Ma valeva una fortuna. Molto interessante. Castigo, castigo. Sei perfetta. Ma per stasera devo fermarmi. Abbiamo finito. Chi mai servi? Io invece... Io invece dico di no. Ho detto basta. Castigo. Lasciami andare. No, sei stato un bambino molto cattivo. Ti farò frustare, puttana. Ah sì? Allora facciamo così. Che ne pensi? Ma che... Chi sei? Che vuoi? La combinazione della tua cassaforte. Ma certo, la cassaforte. La combinazione è 138. Prendi tutto quello che vuoi. Oh cielo, il mio cuore. Va bene, adesso basta. Bravo bambino. Ferma! Mi ucciderai! E' un'altra cassa. Ho avuto quello che volevo. Posso andare? Lo to'era qua. E' un'altra cassaforte. 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 Delle tortine Un'albicocca ottime Sono svoluti Cucu Giovanni Lascerò questi ruoli alle loro baccate Un'albicocca 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 Ehi Emily Un'albicocca Un'albicocca Ehi rallenta piccola Ehi Ehi Forza Andiamocene Un'albicocca 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 Un'albicocca